Adesso basta, calmatevi, non ho voglia di combattere Io non voglio fare del male a nessuno, dico davvero Vi prego, lasciatemi in pace Chiudi quella bocca, vigliacco Labyrinthoscuro! Ante d'urto! Ti finirò con il mio assalto frantumante! E questo è niente Patirai le più orribili sofferenze nell'inferno di ghiaccio che stai per raggiungere Io devo andare al tempio e devo fare in fretta Non ho tempo da perdere con questi tre Pegasus, Crystal, Sirium, Fenix, mio fratello e Lady Isabel hanno bisogno del mio aiuto Io devo lasciare subito questo posto e non mi farò fermare da nessuno! Qualsiasi azione volta ad impedirmi di proseguire sarà considerato un atto ostile Quindi vi avverto, non costringetemi a farvi del male Con quell'armatura usurata, che credi di intemorire? Casena di Andromeda! Oh no! Ha sbaragliato tre cavalieri d'argento in pochi secondi Straordinario Oh no! Ah!